E ora voglio presentarvi Ruvolo, Ruvolo come stai? Ciao, bene, stanco ma bene. Siamo all'ultimo giorno dell'EICMA, com'è andata la fiera? Molto bene, devo dire che ho visto un sacco di gente, buono, vuol dire che c'è passione e c'è interesse ancora per le due ruote. La risposta è stata ottima e adesso ci troviamo qua a Harley Davidson, lato Dark Custom, parlamene un po'. Sì, Dark Custom è un nostro brand che rilancieremo fortissimo l'anno prossimo, abbiamo individuato 5 moto già della nostra line up, sono l'Iron, la Street 750, 48, Street Bob e Fat Bob che hanno un'area più urban, sono più essenziali, indirezzate a un pubblico più giovane e più cool rispetto al nostro tradizionale cliente. Quella su cui sono seduta adesso quale sarebbe? Parlamene anche un po', anche proprio nella struttura se vuoi. È il nostro modello di maggior successo, l'Iron 8883, quindi classico motore Evolution da 883 cm3, telaio Sportster e la linea completamente nera che ne hanno decretato successo sin dall'arrivo nel 2009. Pensi che una ragazza come me riuscirebbe a guidarlo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Di che me lo consiglieresti? Assolutamente sì. Benissimo il ruvolo. Non perdere tempo, vai a provarla in concessionaria perché sono le demo gratuite per tutti. Molto volentieri allora, ti ringrazio per ora, ci vediamo più tardi, tanto sei impegnatissimo qua in fiera e ti chiedo un saluto agli amici a casa, vai. Ciao a tutti, venite a EICMA. Ciao a tutti.